Non lontano dalle porte di Fénant, in rue de la Louvre, Grenoy trovò un piccolo laboratorio di profumiere e chiese lavoro. Risultò che il padrone, maître parfumeur honore Arnulfi, era morto all'inverno precedente che la sua vedova, una donna vivace dai capelli neri sui 30 anni circa, dirigeva il negozio soltanto con l'aiuto di un garzone. Madame Arnulfi, dopo essersi lamentata a lungo dei tempi duri e della sua precaria situazione economica, spiegò che in realtà non avrebbe potuto permettersi un secondo garzone, ma che d'altra parte ne occorreva uno con urgenza a causa del lavoro che sopravveniva, inoltre che non avrebbe proprio potuto ospitare a casa presso di sé un secondo garzone. Tuttavia aveva una piccola capanna nel suo riveto dietro al chiosco dei francescani, a neanche dieci minuti da lì, nella quale un giovanotto senza pretese all'occorrenza avrebbe potuto pernotare e che, come padrona coscienziosa, si rendeva conto della sua responsabilità nei confronti della salute fisica dei suoi garzoni, ma ad altronde non era assolutamente in grado di fornire due pasti caldi al giorno. In breve, Madame Arnulfi era, come ovviamente il fiuto di Grenoie aveva già avvertito da tempo, una donna sanamente benestante e con un sano senso degli affari. E poiché a lui non interessava il denaro e si dichiarò soddisfatto di due franchi di salario la settimana e delle altre misere condizioni, si accordarono rapidamente. Fu chiamato il primo garzone, un uomo gigantesco di nome Drouot. Grenoie indovinò subito che era abituato a condividere il letto di Madame e che evidentemente quest'ultima non assumeva certe decisioni senza averlo consultato. Egli si presentò davanti a Grenoie, che al cospetto di questo gigante appariva addirittura ridicolo, come una foglia al vento, a gambe larghe, diffondendo una nuvola di odore spermatico. Lo squadrò, lo considerò attentamente, cercando quasi di individuare qualche proposito sleale o un possibile rivale, infine sorghignò con condiscendenza e diede il proprio assenso con un cenno. Così tutto fu regolato. Grenoie ricevette una stretta di mano, una cena fredda, una coperta e la chiave della capanna. Un bugigattolo privo di finestre che puzzava gradevolmente di sterco vecchio di pecore e di fieno e nel quale si sistemò come poteva. Il giorno seguente cominciò il suo lavoro da Madame Arnulfi. Era l'epoca dei Narcisi. Madame Arnulfi faceva coltivare i fiori in piccoli appezzamenti di terreno suo che possedeva fuori città nella grande conca, oppure li acquistava dai contadini con i quali mercanteggiava accanitamente per ogni quarto di libra. I fiori venivano consegnati la mattina presto, li rovesciavano in laboratorio a cesti, a diecimila per volta in fragranti mucchi voluminosi, ma leggeri come una piuma. Nel frattempo Drouot, in un grande paiolo, faceva fondere sego di porco e sego di bue in una sorta di zuppa cremosa nella quale, mentre Grenoie doveva mescolare senza tregua con una spatola lunga quanto una scopa, gettava i fiori feschi appalate. Con occhi spaventati a morte, essi giacevano sulla superficie per un secondo e impallidivano nel momento in cui la spatola li spingeva sotto e il grasso caldo li racchiudeva. E quasi nello stesso istante erano anche già afflosciati e appassiti, ed evidentemente la morte sopravveniva così in fretta da non lasciare ad essi altra scelta se non quella di insufflare il loro ultimo sospiro odoroso proprio in quell'elemento che li annegava. Infatti Grenoie lo notava con indescrivibile entusiasmo quanti più fiori spingeva sotto mescolando nel suo paiolo, tanto più il grasso emanava profumo. E in verità non erano i fiori morti a diffondere il profumo nel grasso, no, era il grasso stesso che si appropriava del profumo dei fiori. Talvolta la poltiglia diventava troppo densa e dovevano colarla rapidamente in grandi setacci per liberarla dai cadaveri estenuati e prepararla a ricevere fiori freschi. Poi gettavano dentro altre palate di fiori e mescolavano e setacciavano così per tutto il giorno senza tregua, perché il mestiere non tollerava ritardi, finché verso sera tutto il mucchio di fiori era passato attraverso il paiolo col grasso. I resti, affinché nulla andasse perduto, venivano passati di nuovo in acqua bollente e strizzati in una pressa a vite fino all'ultima goccia e riuscivano ancora a dare un olio dall'aroma delicato. Ma la parte più consistente del profumo, l'anima di un mare di fiori, era rimasta nel paiolo, racchiuse e conservata nel grasso di un insignificante bianco-grigio che si rapprendeva a poco a poco. Il giorno seguente si continuava con la macerazione, così si chiamava questa procedura. Di nuovo si accendeva il fuoco sotto il paiolo, si faceva affondere il grasso e si gettavano dentro altri fiori freschi. Così per parecchi giorni, da mattina a sera il lavoro era faticoso. Grenouille aveva braccia di piombo, calli alle mani e dolori alla schiena quando la sera tornava barcollando alla sua capanna. Drouot, che era alto almeno tre volte più robusto di lui, non lo sostituiva neppure una volta nel rimestare, ma si limitava ad aggiungere i fiori quasi privi di peso e a badare al fuoco e talvolta a causa del calore si allontanava per bere un goccio. Tuttavia Grenouille non si ribellava. Rimestava i fiori nel grasso senza lamentarsi dalla mattina alla sera e rimestando quasi non avvertiva la fatica perché ogni volta era affascinato dal processo che si svolgeva sotto i suoi occhi e sotto il suo naso. Il rapido appassire dei fiori e l'assorbimento del loro profumo. Dopo un certo tempo Drouot constatava che il grasso era saturo e non poteva più offrire altro profumo. Spegneva il fuoco, setacciavano la pesante bottiglia per l'ultima volta e la versavano in recipienti di terraglia dove essa ben presto si solidificava in una pomata dall'aroma squisito. Questo era il momento di madame Arnulfi che arrivava per esaminare il prezioso prodotto, per apporvi una scritta e per registrare nei suoi libri con la massima precisione il ricavato secondo qualità e quantità. Dopo aver chiuso personalmente i recipienti, averli sigillati e portati nei freschi recessi della cantina, indossava il suo abito nero, metteva il suo velo vedovile e iniziava il giro tra i commercianti e le ditte di profumo della città. Con parole toccanti descriveva ai compratori la sua situazione di donna sola, si faceva fare offerte, confrontava i prezzi, sospirava e infine vendeva o non vendeva. Le pomate profumate conservate al fresco si mantenevano a lungo e se ora i prezzi lasciavano a desiderare, chissà, forse d'inverno o nella prossima primavera, sarebbero risaliti. C'era anche da riflettere se non convenisse, anziché vendere a quei bottegai, inviare per nave un carico di pomate a Genova, assieme ad altri piccoli produttori, oppure associarsi a un convoglio diretto a Boucher per la fiera d'autunno. Imprese rischiose, certo, ma estremamente redditizie in caso di successo. Madame Arnulfi soppesava con cura queste diverse tossibilità e talvolta anche le combinava. Vendeva una parte dei suoi tesori, un'altra la conservava e con una terza trattava a proprio rischio. Quando comunque le sue informazioni le davano l'impressione che il mercato delle pomate fosse saturo e che il prossimo futuro non lasciasse presagire penurie di prodotto che avrebbero indotto i commercianti a ricorrere alle sue scorte, correva verso casa col velo fluttuante e incaricava Drouot di sottoporre tutta la produzione a un lavaggio e di tramutarla in essence absolue. E allora riprendevano la pomata dalla cantina, la riscaldavano con estrema cautela in recipienti chiusi, vi aggiungevano alcol etilico del più raffinato e introducendo un agitatore che Grenouille manovrava la rimescolavano e la sottoponevano a un lavaggio accurato. Una volta riportata in cantina questa miscela si raffreddava rapidamente, l'alcol si separava dal grasso della pomata che via via si rapprendeva ed era pronto per essere travasato in una bottiglia. Ora si presentava quasi come un profumo ma estremamente intenso mentre la rimanente poltiglia aveva perso la maggior parte del suo aroma. Così ancora una volta il profumo dei fiori si era trasmesso a un altro elemento. Tuttavia l'operazione non era ancora finita. Dopo un filtraggio accurato con garze che trattenevano anche i più piccoli grumi di grasso, Drouot versava l'alcol profumato in un piccolo alambicco e lo distillava lentamente a fuoco molto moderato. Ciò che restava della storta, che la sublimazione dell'alcol era una quantità minima di liquido dal colore pallido che a Grenoie era ben noto ma di una qualità e purezza che il suo olfatto non aveva mai conosciuto né da Baldini né da Ronell l'olio puro dei fiori. Il loro aroma netto concentrato centomila volte in una piccola quantità di essence absolue. Quest'essenza non aveva più un odore gradevole, aveva un odore quasi dolorosamente intenso, acuto e pungente e tuttavia già solo una goccia sciolta in un litro d'alcol bastava a rianimare, a far risuscitare un intero campo di fiori senza profumo. Il ricavato era minimo. Il liquido derivato dalla distillazione bastava giusto a riempire tre flacconi. Dall'aroma di centomila fiori non era rimasto altro se non tre piccoli flacconi ma valevano una fortuna già lì a Grasse e quanto più ancora quando si spedivano a Parigi o a Lione o a Grenoble o a Genova o a Marsiglia. Alla vista di quei flaconcini madame Arnulfi assumeva uno sguardo languido, li acarrezzava con gli occhi e quando li prendeva e li tappava con tappi di vetro debitamente smerigliato tratteneva il respiro per non dispendere nulla del prezioso contenuto e affinché anche dopo la chiusura non sfuggisse neppure un atomo di profumo in esalazione sigillava i tappi con cera liquida e infilava una vescica di pesce sul collo della bottiglia che poi legava saldamente con uno spago. Quindi deponeva i flacconi una cassettina foderata ad ovatta e li metteva sotto chiave in cantina. In aprile macerarono ginestre e fiori d'arancio, in maggio un mare di rose, il cui aroma immerse la città per un mese intero in una nebbia invisibile dolce come crema. Grenoble lavorava come un mulo, eseguiva umilmente con una disponibilità quasi da schiavo tutti i lavori da subalterno che Druoth li accollava, ma mentre con apparente ottusità rimestava e spatolava, lavava tinozze, puliva il laboratorio, andava a prendere la legna da ardere, alla sua attenzione non sfuggiva nulla dei processi fondamentali del mestiere, nulla della metamorfosi dei profumi. Con una precisione maggiore di quella che avrebbe potuto avere Druoth, e cioè con il suo naso, Grenoble seguiva e sorvegliava la migrazione dei profumi, dei petali, dei fiori al grasso e all'alcol fino ai preziosi flaconcini. Molto prima che Druoth se ne accorgesse, sentiva il fiuto quando il grasso si riscaldava troppo, sentiva quando i fiori erano esauriti, quando la poltiglia era satura di profumo, sentiva quello che succedeva dentro al recipiente di miscelatura e in quale preciso momento si doveva porre fine al processo di distillazione. E all'occasione si faceva capire, naturalmente con molto tatto e senza perdere il suo atteggiamento sottomesso. Aveva la sensazione, diceva, che ora il grasso potesse essersi scaldato troppo. Pensava quasi che fra non molto si potesse filtrare. Aveva un certo presentimento che ora l'alcol nell'alambicco fosse evaporato e Druoth, che a dire il vero non era proprio di un'intelligenza eccezionale, ma nemmeno del tutto stupido, con il tempo capì che le sue decisioni si dimostravano le più giuste, allorché faceva o ordinava di fare appunto quello che Grenoble pensava quasi o di cui aveva un certo presentimento. E poiché Grenoble non esprimeva mai in modo saputo o saccente quello che pensava o presentiva e poiché mai e soprattutto mai in presenza di Madame Arnulfi avrebbe messo in dubbio anche solo con ironia l'autorità di Druoth e la sua posizione preeminente di primo garzone, Druoth non aveva motivo di non seguire i consigli di Grenoble, anzi con l'andare del tempo di non affidargli sempre più potere decisionale. Sempre più spesso Grenoble non soltanto rimestava ma riforniva di fiori il paiolo, lo faceva scaldare e filtrava mentre Druoth spariva per fare un salto ai quatre de fin a bere un bicchiere di vino o saliva da Madame per vedere se tutto era in ordine. Sapeva di potersi fidare di Grenoble e a Grenoble sarebbe, sebbene sbrigasse doppio lavoro, piaceva essere solo, perfezionarsi nella nuova arte e all'occasione eseguire piccoli esperimenti e con immensa gioia constatò che la pomata preparata da lui era incomparabilmente più fine che la sua essenza absolue era più pura di grado di quelle che produceva assieme a Druoth. Alla fine di luglio cominciò l'epoca dei gelsomini, in agosto quella delle tuberose. Entrambi i fiori avevano un profumo così squisito e fragile a un tempo che non soltanto si dovevano raccogliere prima dell'alba ma richiedevano una lavorazione particolarissima estremamente delicata. Il calore riduceva il loro profumo. L'immersione brutale nel grasso caldo della macerazione l'avrebbe totalmente distrutto. Questi fiori tra i più nobili non si lasciavano strappare l'anima così semplicemente, bisognava carpirla con vere e proprie lusinghe, bisognava spargerli su lastre spalmate di grasso freddo o avvolgerli mollemente in pezze di stoffa imbevute d'olio in un ambiente apposito e là lasciarli riposare fino alla morte. Soltanto dopo tre o quattro giorni erano appassiti e avevano ceduto il loro aroma al grasso e all'olio con cui erano stati a contatto. Poi si staccavano con cautela dalle lastre e dalle pezze di stoffa e su queste si spargevano altri fiori freschi. Il procedimento si ripeteva anche dieci, venti volte e durava fino a settembre, periodo in cui la pomata si era saturata del tutto e l'olio aromatico si poteva spremere dalle pezze. Il ricavato era notevolmente minore rispetto a quello ottenuto con la macerazione, ma la qualità di una simile pasta di gelsomino ottenuta con l'influrage a freddo o di un oeil antique de tuberose superava in finezza e fedeltà al profumo originale qualsiasi altro prodotto dell'arte profumiera. Soprattutto nel caso del gelsomino era come se il profumo dolce e avvincente e erotico del fiore si fosse riflesso sulle lastre spalmate di grasso come in uno specchio e da esso si raggiasse di nuovo tale quale cum granosalis, ovviamente. Infatti il naso di Greneux distingueva ancora perfettamente l'odore dei fiori, del loro aroma conservato, l'odore particolare del grasso, per quanto puro fosse, si estendeva come un velo delicato sull'immagine odorosa dell'originale. La mitigava, ne indeboliva un poco la nota emergente, forse soltanto allora rendeva la sua bellezza sopportabile per la gente comune, ma comunque l'influrage a freddo era il sistema più raffinato e più efficace per catturare i profumi delicati e anche se il metodo non bastava convincere del tutto il naso di Greneux, egli sapeva che era più che sufficiente per ingannare un mondo fatto di nasi ottusi. In breve tempo aveva già superato il suo maestro Druoth sia nella macerazione sia nell'arte della profumazione a freddo e gliel'aveva fatto capire nel solito modo discreto e sottomesso. Druoth gli affidava volentieri il compito di andare al mattatoio ad acquistare i grassi più adatti e quello di pulirli, scioglierli, filtrarli e decidere in quale proporzione combinarli nella miscela, un compito sempre molto difficile e temuto da Druoth perché un grasso impuro, rancido o con un odore troppo forte di maiale, di montone o di bue, poteva rovinare la più pregiata delle pomate. Lasciava che decidesse la distanza tra le lastre e spalmate di grasso nell'ambiente della profumazione, il momento in cui cambiare i fiori, il grado di saturazione della promata e presto gli affidò tutte le decisioni critiche che lui, Druoth, come a suo tempo Baldini, riusciva a prendere soltanto con una certa approssimazione, secondo regole imparate macchinalmente, ma che Grenoy indovinava con la sapienza del suo naso, cosa che naturalmente Druoth non sospettava. Ha una mano felice, diceva Druoth, ha un senso sicuro delle cose e talvolta pensava che anche è semplicemente molto molto più dotato di me, è un profumiere cento volte migliore. E nello stesso tempo lo considerava uno stupido farte finito perché pensava che Grenoy non traesse il minimo profitto dal suo talento, ma lui, Druoth, con le sue capacità più modeste in avvenire, ne avrebbe fatto un maestro. E Grenoy lo rafforzava in questa convinzione, si comportava deliberatamente come uno sciocco, non mostrava la minima ambizione, fingeva di non sospettare affatto la propria genialità, ma di agire soltanto secondo le disposizioni del molto più esperto Druoth, secondo il quale lui sarebbe stato un non nulla. In tal modo andavano perfettamente d'accordo. Poi arrivò l'autunno e anche l'inverno. Nel laboratorio ci fu più calma, i profumi di fiori erano chiusi in cantina nei loro recipienti e flaconi e quando madame non voleva lavare questa o quella pomata o non dava ordine di distillare un sacco di spezie secche, non c'era più molto da fare. C'erano ancora le olive, ogni settimana un paio di ceste colme, spremevano da essa l'olio vergine e gettavano il resto nel frantoio e il vino che Grenoy in parte distillava e rettificava in alcol. Druoth si faceva vedere sempre meno, faceva il suo dovere nel letto di madame e quando compariva, puzzando di sudore, di sperma era soltanto per sparire ben presto alla volta dei quatre du fain. Anche madame scendeva di rado, si occupava delle sue questioni patrimoniali e della trasformazione del suo guardaroba per il periodo successivo all'anno di lutto. Spesso Grenoy non vedeva nessuno per giorni, tranne la serva dalla quale a mezzogiorno riceveva una zuppa e alla sera pane e olive, usciva di rado. Partecipava alla vita corporativa, cioè alle riunioni regolari dei garzoni e ai cortei, giusto quel tanto da non essere notato né per la sua assenza né per la sua presenza. Amicizie e conoscenze più intime non ne aveva, ma stava ben attento a non farsi considerare arrogante o diverso dagli altri. Lasciava che fossero gli altri garzoni a trovare la sua compagnia insulsa e improduttiva. Era un maestro nell'arte di diffondere attorno a sé la noia e di spacciarsi per uno sciocco maldestro. Naturalmente non in modo così esagerato che ci si potesse prendere gioco di lui con piacere farne la vittima di qualche scherzo grossolano tipico della corporazione. Riuscì a farsi considerare del tutto privo di interesse. Lo lasciarono in pace e lui non voleva altro.